signori e signori buonasera e benvenuti a bordo di cinestare in attesa che il film inizi vi invitiamo a prestare attenzione alle procedure di emergenza da applicare in caso di girovita salvagente addominali alla deriva i glutei in picchiata prendete il kit di primo soccorso che si trova sotto il vostro sedile si si è proprio sotto il vostro sedile tiratelo dalle estremità prima uno e poi l'altra se il vettorale non si gonfia ripetite la procedure con gratulazioni avete appena iniziato a mettere in salvo il vostro fisico alla fine della proiezione vi invitiamo a seguire il sentiero luminoso per uscire dalla sala ed effettuare un atterraggio d'emergenza nella palestra Excalibur grazie a tutti grazie a tutti